38 donne dopo il femminicidio di Giulia Cecchettina hanno deciso di raccontare in forma anonima la violenza che hanno subito o subiscono, un inizio per educare una società migliore. È un sogno che è stato realizzato, che ha voluto realizzare il Cantiere delle Donne, l'associazione di promozione sociale, assieme all'associazione Rivera Donna. Abbiamo cioè chiesto alle donne di raccontarsi, di buttare fuori nel vero senso della parola in maniera anonima le loro storie di violenza quotidiana, violenza psicologica, violenza fisica, violenza economica, perché crediamo che solo buttando fuori si possa ripartire. È un instant book intitolato Il rumore delle parole a Giulia e a tutte le altre, ideato dalle associazioni Cantiere delle Donne e Riviera Donna. L'obiettivo è quello di continuare a tenere alta l'attenzione, invitando le donne in maniera anonima a raccontarsi. Un centinaio di pagine, formato tascabile, i proventi dei diritti d'autore e del volume, saranno destinati all'acquisto degli elettrodomestici e della biancheria per l'avvio di Casa Elena, la nuova casa rifugio di gruppo Polis, per donne vittime di violenza e per i loro bambini. Il Veneto ha 3.000 case in un anno di donne che hanno subito violenza a diversi livelli, 1.500 di queste sono passate prima da un pronto soccorso e solo 500 hanno denunciato. Abbiamo 7 case alloggio che sono anonime e nessuno sa gli indirizzi, per cui sono in grado di dare massima protezione soprattutto alle donne che hanno bimbi e dove ci sono minori. C'è una rete importante, l'unica soluzione è farsi aiutare e denunciare. Il violento non si placa col tempo, resta violento.